Il campo basso demolisce con un netto 4 a 1 il Rieti ex terza della classe e consolida il primo posto, probabilmente la migliore prestazione stagionale dei Rosso Blu. L'inizio in salita non scoraggia i locali che anzi sfoderano una prestazione di altissimo profilo sugli scudi bontà che realizza una doppietta e l'ottavo gol stagionale, ma anche lo stesso Esposito che prima pareggia e poi è sempre pericoloso. Buona la direzione di gara del signor Diop di Treviglio, succede molto nel primo frangente, dopo soli 53 secondi Piga si allunga il pallone, lo recupera Galvanio che lo appoggia a Fioretti, facile il gol del vantaggio dei Laziali, ma che infortunio per Piga. Rieti avanti immediatamente, altrettanto rapida la risposta dei Rosso Blu tutta al settimo nel gol di pregevole fattura di Vittorio Esposito che angola tantissimo il diagonale, non a scampo, Scaramuzzino forse troppo spostato sul primo palo. I Lupi pareggiano grazie al sesto gol stagionale del Molisano Esposito. Il campo basso è bravo a pareggiare subito ma anche a sfiorare al quattordicesimo il gol del sorpasso con Brenci fermato quasi sulla linea di porta da Marchi. I Rosso Blu spingono sull'acceleratore al venticinquesimo, corsa di Van Zand sulla sinistra, palla al centro, preda di Scaramuzzino. Al trentunesimo Esposito è davvero abilissimo a scavalcare la barriera ed a premiare Cogliati che si gira ma non riesce a calciare troppo pulito. Grossa palla gol per il Rosso Blu. Il campo basso coglie i frutti dell'assedio al trentatresimo quando Bontà effettua la solita torsione gol su angolo di Esposito. Scaramuzzino non può nulla. I Rosso Blu sono avanti grazie al settimo sigillo di Bontà. Alla distanza il Rieti si spegne decisamente mentre al trentottesimo Brenci punta la porta con il destro ma è impreciso. Il campo basso disputa un primo tempo incontenibile. Al quarantunesimo triplica le reti. Da corner a staccare sempre Bontà. Scaramuzzino risponde alla perfezione. Ma poi non può nulla sul successivo tapin dello stesso Bontà che realizza una doppietta in pochi minuti. Primo tempo di alto livello della squadra di Cudini. Al riposo senza minuti di recupero con le immagini di Antonio Trotta siamo nella ripresa. Il tecnico reatino Campolo fa entrare subito Sadek al posto di Marchi. Al sesto Esposito fa suo il fallo laterale di Brumat. Si avvia verso l'aria. Vi entra ma poi calcia alto sopra la traversa. Ancora cambi nel rieti con Tomassone che rileva Brumat dall'undicesimo. Campolo prova a cambiare il volto alla sua squadra con gli ingressi anche di Loporto e Tiraferri. Ma la musica non cambia in casa laziale. Tutto questo mentre il campo basso dimostra di amministrare e di saper offendere. Al ventunesimo Cogliati conclude da lontano senza infastidire Scaramuzzino. Al ventitresimo pallone velenoso di Van Zan su cui c'è lo zampino Galeotto di Zammarchi che non realizza anche per bravura del portiere. Ospite al ventottesimo dalla punizione di Esposito spunta Bontà che viene spinto da Orchi ma non vengono ravvisate irregolarità. Il rieti chiude cinque cambi con l'ingresso di Tunkara al posto di Orchi mentre Cudini cambia Zammarchi per inserire Tengorang dal trentunesimo. I rosso-blu passano alle due punte. Al trentaquattresimo un esposito desideroso di realizzare trova sulla sua strada solo un difensore reatino. Sfortunato il talento tutto molisano. Il film della ripresa ricalca quello del primo tempo cioè con il campo basso che rischia ancora di segnare. Al trentasettesimo quando il pallonetto di Bontà si stampa contro la traversa e con Cogliati che non riesce a finalizzare. Cudini cambia mezza difesa con gli ingressi di Martino e Sbardella al posto di Fabriani e Dalmazzi. Al quarantunesimo al limite dell'area rosso-blu sterzata di Fioretti ma conclusione mancina assolutamente fuori misura. Esce esposito ed entra Di Domenico Antonio al suo posto. Una specie di record per l'attaccante romano in campo davvero da qualche secondo. Viene lanciato a rete e dribbla secco il portiere del rieti e deposita nella porta sguarnita. Il campo basso segna il poker di Reti grazie alla freschezza di Simone Di Domenico Antonio. Anche per Cudini cinque cambi con l'ingresso del neo arrivato il sardo Pietro Ladu che ad un minuto dalla fine rileva Brenci. Il campo basso è una macchina da occasioni da gol al quarantaseiesimo grossa discesa di Di Domenico Antonio. Schiaffo al pallone di Scaramuzzino poi Palo. Si fionda Cogliati sulla sfera trovando l'incredibile deviazione di Loporto a negare la cinquina di casa. Il campo basso rimane meritatamente in vetta al termine di una prova di grandissima intensità. Evidente il divario fra le due formazioni sorprende in positivo. Fra le altre cose come la squadra sia in grado di migliorarsi costantemente e di offrire prestazioni sempre di alta qualità.